Un giorno, come ogni settimana, cavalchiamo delle storie abbastanza triste. L'amico mio è venuto a cercarmi e mi ha detto di leggere un messaggio prima di iniziare questa intervista, che l'ha mandata la signora in questione. Sono rimasti incinta all'età di 17 anni, io leggo pane pane vino vino, e giustamente con i genitori che non stavano molto bene e il padre della bambina era sposato, quindi una ragazza madre, e non voleva prendersi la responsabilità, perciò sono finita in casa famiglia. Non ho sentito nessuno per due mesi, successivamente dopo tre mesi ho lasciato il padre della bambina, e lì è iniziato il mio nuovo progetto all'interno della casa famiglia, che comprendeva trovarmi un, nel frattempo, forse una casa ve lo scrivo, nel frattempo io ho trovato tanti lavori che mi hanno permesso di mettermi soldi di lato, in questo devo dire che mi hanno aiutato molto, molto casa, non so cosa significa, un lavoro e la patente successivamente sarei uscita io la bambina, sto leggendo pane pane vino vino, nel frattempo io ho fatto vari lavori che mi hanno permesso di mettermi soldi di lato, in questo devo dire che mi hanno aiutato molto anche i miei genitori, i genitori mi hanno aiutato molto, facevano avanti e indietro continuamente per loro, i genitori della ragazza, hanno aiutato la ragazza a fare andata in ritorno. Va bene, da oggi è mai nel piatto dove mai, non ho sputo mai nel piatto di maggio, ma questo non gli ha mai dato il diritto ad oggi di mettermi contro la mia famiglia, ecco qua, allora tu di nome come fai? Io mi chiamo Graziano, Graziano, allora ascoltami Grazia, ci vuoi spiegare questa tua parente, non diciamo il grado di parentela, che cosa gli è successo? Praticamente è stata chiusa dentro una comunità per 12 anni. Perché è stata chiusa in autocomunità? Perché praticamente fu messa incinta? Fu messa incinta di una persona di cui era sposato, poi questa ragazza dopo due mesi è andata a finire in comunità per aiutare sua figlia stessa, perché se era un'altra l'avrebbe abbandonato sua figlia, l'avrebbe dato in affidamento, in adozione, invece no. Io dico, i servizi sociali ci sono, le comunità ci sono, ora io dico, grazie alla comunità che l'hanno aiutata molto a lei, però ci sono... Questa comunità ti chiedo scusa, non perdere il figlio, dove si trova? Si trova a Floridia. E la ragazza è anche di Floridia? No, la ragazza è stata chiusana, però è entrata a finire in comunità a Floridia, per l'amore di non perdere la bambina. Ora dico, i servizi sociali che cercate di dire, di aiutare le persone, non è così che si fa, mettere una ragazza dentro la comunità, per poi abbandonarla così per 12 anni, perché la ragazza si è fatta, non 12 anni di comunità, perché se uno ammazza una persona, esce come delitto di Cogni, esce dopo una parola di anni, si è fatta la buona condotta, ed esce come se avesse stato pulita. Ma questa ragazza si è fatta a 12 anni, e io sono contro queste persone, perché se dovete aiutare, mi dovete aiutare per riconciliare con i figli, ci sono tante cose, psicologhi, psichiatri, dove sono queste leggi? Non è che la legge è solo per noi, che se sbagliamo ci paghiamo tutte le conseguenze, e dopodiché per gli altri non ce n'è legge completamente. La legge dovrebbe fare anche per le altre persone, perché i figli sono anche della madre, e dice, ok, ho abbandonato mia figlia, perché poi sicuramente hanno fatto il lavaggio del cervello a questa ragazza, perché prima era un amore e pace con mamma e figlia, 12 anni c'è stato, non è che c'è stato un giorno. La mamma dormiva anche nella casa famiglia. Sì, ma notte e giorno, H24. Quindi gli dava tutto l'affetto alla bambina, giustamente. Per qualsiasi cosa era, sempre mamma e figlia. Ora io dico una cosa, ora perché c'è stato dopo 12 anni, uno si vuole sistemare, la ragazza ha trovato una sistemazione, non è che dice, non ha casa, non ha soldi economicamente per aiutarla, ha la casa, economicamente, grazie a Dio non ci manca nulla. Noi gli fanno vedere la sua figlia, gli telefona e hanno messo contro la figlia con la madre, e per me non è corretto questo. Perché ci sono tanti metodi... Perché non gli risponde la figlia? No, praticamente lei ha provato a telefonare anche nel mese di Natale. Gli ha telefonato e la figlia ci ha detto, no, non ti voglio sentire, ma se prima era un amore e pace, tutte e due d'accordo per qualsiasi cosa, ci deve essere un motivo che la figlia non vuole sentire la madre. Perché pensi che gli hanno invulcato nel cervello della bambina? Ma sicuramente sarà così, perché se io ho mia figlia che va d'accordo dalla mattina alla sera, non credo che poi oggi o domani mia figlia non mi vuole vedere più a me. Ok, allora vediamoci, parliamo, dialoghiamoci, andiamo nel psicologo, nella neuropsiciatria infantile, fammi fare le videochiamate per vedere la mia figlia, noi che ora a luglio fa due anni che non la vede e non la sente, ma stiamo scherzando, 12 anni di galera se l'ha fatta lei. Dimmi una cosa, ti chiedo scusa, ti chiedo umilmente scusa, ma il papà ha riconosciuto adesso, il signore che ha messo in cinta la signora? L'ha riconosciuta, lui ci va, Quindi avrà un cognome ormai? Sì, sì, certo, certo. Lui ci va? Lui ci va, la vede, la fa, però 12 anni di comunità se l'ha fatta la mamma, a lui gli danno il diritto di vederla, a lei no, e questo non è corretto, perché la madre è quella che ha subito tanti dolori e tutte cose, non c'avevamo il diritto di essere padre, ok, ma tutto ciò il diritto ce l'ha anche la madre. Ma adesso con chi vive? Con una ragazza. Quindi, sì, ho capito, si è fatto che questa ragazza, questa ragazza era sempre nella casa famiglia? Era sempre nella casa famiglia, sì, e si è sistemata, grazie a Dio, e non ci manca nulla. Per concludere, che appello vuoi fare? Voglio fare l'appello, e tua cugina ragazza? Praticamente, di aiutare a questa ragazza, di vedere la propria figlia, che non è giusto, voi di servizio sociale, che dite di aiutare alle persone, e poi all'ultimo, non aiutate alle persone. Io capisco che voi ci dovete guadagnare, perché non mette in dubbio a uno straniero, che prende 50 euro al giorno, ve lo mettete nelle comunità, e ci sta. Ma uno che non ci manca niente, ha i soldi, economicamente non ci manca nulla, ci sono tante cose, educativi a casa, psicologi, neuropissicativi infantili, non mette in dubbio, che la ragazza sia a disposizione, per qualsiasi cosa, perché se era un'altra ragazza, l'avrebbe detto, non mi interessa di mia figlia, invece, infine ora, è qui che è con madre. L'amore di una mamma. Va bene, io direi a questo punto, non abbiamo fatto nome per correttezza, giusto? né della ragazza, né anche della casa famiglia, giustamente, questo video sicuramente, perché siamo seguitisti, lo vedranno, vedete se potete vedere, quello è il diritto, c'è il diritto di una mamma, di poter abbracciare, una figliola che l'ha avuta per 12 anni, e adesso non la fanno più vedere, manco telefonare. Posso fare solamente il nome della ragazza, solo il nome. Il nome è Sara, è la casa famiglia di Floridia. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie.